Io mi chiamo Bassi Mattias, ho ritirato la dita di mio padre due anni fa, ho sempre lavorato come meccanico ed è 35 anni che abbiamo l'azienda di trasporto di autobus e turismo. Negli ultimi anni abbiamo rinnovato tutto il parco veicoli, tendo nuovi autobus, di cui questo nuovo Skyliner. Ho deciso di comprare Neoplan perché ci siamo sempre trovati bene per il design e la qualità. Buongiorno, io sono Corrado, sono autista ufficiale della Josie Tour. La routine giornaliera è guidando e portando a spasso la gente che ho a bordo per vedere luoghi nuovi, luoghi vecchi, luoghi dove ci si trova bene. Questo lavoro deve piacere, non deve pesare, bisogna stare bene con la gente ed è bello girare il mondo. Il livello di importanza è innanzitutto la sicurezza della macchina perché comunque è una macchina dove ci salgono 79 persone e non sono poche. La sicurezza di questo bus è sicuramente eccezionale e la gente che ci sale è contentissima. Sono molto felici di viaggiare con una macchina nuova, innovativa e sicura come lo Skyliner. Fino adesso, in base anche alle statistiche che abbiamo fatto di ogni viaggio, la gente ha sempre apprezzato in modo positivo la bellezza del bus, lo spazio interno, la visuale e tutte queste cose sono state molto importanti.